che cos'è un paesaggio il paesaggio è un patrimonio culturale insegnare la conoscenza la cura il rispetto del paesaggio può rappresentare un valore per la società si può fare educazione al paesaggio e alla sostenibilità lavorando con gli studenti direttamente sui loro contesti di vita l'educazione al paesaggio e al patrimonio culturale è imprescindibile per formare i giovani alla cittadinanza attiva alla tutela dei beni comuni al dialogo culturale e intergenerazionale e a stili di vita responsabili e sostenibili insieme ad esperti e grazie alla condivisione delle esperienze di insegnanti di scuole italiane spagnole austriache vedremo che l'educazione al paesaggio non può limitarsi a occasionali visite e a contesti di eccellenza ma che deve invece essere interdisciplinare inclusiva e praticabile in ogni luogo anche quelli ordinari o degradati benvenute benvenuti al corso landscape education for transition ma che deve invece essere interdisciplinare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti